Dobbiamo stare tutti veri sereni e tranquilli, ma tutti insieme con la tifoseria e siamo noi i giocatori che dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte. Si riparte dalla partita contro Salernitana. Tutti i risari sono difficili, è un modo diciamo, particolarmente Salernitana perché sappiamo che è squadra tosta come tutte le altre, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, alle nostre giocate e fare tutto al massimo, al 110%, e alla fine sono sicuro che il risultato viene. Certo che vorrei essere qua, normale, però quando ti chiamo a Nazionale è sempre un orgoglio andare là. Ma mi ricordo che pure l'anno scorso ho saltato una partita che era contro la Spal, abbiamo vinto, è andato tutto bene. Sì, sì, ma io intanto sono tutti giocatori, siamo tutti, diciamo, forti, che ognuno che viene messo in campo dà sempre il massimo e dà un contributo alla squadra. Mi sa che è successo già contro di Navarra che ha piovuto tantissimo e ci siamo difesi molto bene, dobbiamo difenderci molto bene e poi salutare le occasioni che vengono. Con la nostra squadra sono sicuro che ci saranno tante occasioni.